Amici sportivi appassionati di calcio, ben ritrovati a Sport in Casa e non potevamo in questa settimana, in questo inizio di settimana non parlare di quello che è successo nell'ultimo turno di campionato di Serie D perché c'è stato un derby ed è stata una partita straordinaria e noi per parlare di questo ma anche di tutto quello che è stato, insomma questo girone d'andata che si appresta oramai a concludersi in Casa Cartigliano abbiamo invitato ed è un piacere ritrovare Leopoldo Toresini, il direttore sportivo dei Biancazzurri, buonasera direttore, buonasera grazie del invito, buonasera a tutti i telespettatori, allora direttore entriamo subito nel vivo perché insomma sono tante le cose da dire sia sul campionato sia appunto concentrandoci sulla realtà del Cartigliano perché insomma in una settimana direttore avete vissuto delle emozioni straordinarie, il 4 a 4 sette giorni fa in casa dell'Adriese una partita straordinaria nel senso una di quelle veramente che rimangono scolpite nella memoria, Adriese in vantaggio 3 a 0, a un certo punto il Cartigliano si porta sul 4 a 3, quindi partita e recupero incredibile con l'Adriese, corazzata di questo campionato e poi qualche giorno dopo il derby con il Montecchio, vittoria 3 a 2 in una partita anche qui che ha visto sorpassi e controsorpassi. Facciamo un po' d'ordine, intanto direttore qual è stata l'emozione più forte? Ma quando ci sono queste prestazioni non si può fare una classifica di emozioni, le emozioni sono belle sempre e confermano ancora che abbiamo dei giocatori, degli uomini, delle persone che abbiamo scelto e che hanno confermato quello che pensavamo all'inizio, gente che ha la maglia attaccata alla pelle, quindi gente che noi cerchiamo, che non sono quei giocatori che passano per le squadre e poi salutano, quindi confermiamo ancora che le nostre scelte sono fatte su questo tipo di giocatori e di persone e fino adesso ci sta dando ragione e siamo contenti. Parliamo un attimo del derby, derby con la vittoria 3 a 2 al fair play contro il Montecchio Maggiore, ogni anno il Cartigliano affronta il classico derby fra Cugini, con l'Arzignano eccetera, negli anni passati e quant'altro. Questo derby nuovo, che sapore ha avuto, un po' nuovo per la Serie D, che sapore ha avuto per il Cartigliano e a fine partita quali soddisfazioni ha lasciato? Allora intanto è stato un derby tra due squadre amiche, questo lo voglio dire, in cui c'è un rapporto anche proprio di collaborazione se si può, è stata una gran bella partita e questo è importante, noi l'abbiamo vinta, si poteva anche pareggiarla, non c'era niente da dire, sono quelle partite in cui chi segna alla fine porta a casa la partita, però è stata soprattutto una bella partita, gli spettatori sono divertiti, in campo ho visto cose veramente pregevoli da ambo le parti, veramente cose che piacciono a chi va a vedere una partita di calcio e questo secondo me è importante. Poi la vittoria è la parte, la ciliegina sulla torta per chi come noi ha potuto assaporare. Direttore, ha segnato Visi Noni contro di voi, piccola adesso parentesi, è chiaro che insomma il calciomercato, le dinamiche le conosciamo tutti perché insomma più o meno i giocatori che bazzicano, passateci il termine, la serie D, quelli che stazionano nel girone C sono più o meno quelli, però un direttore sportivo che vede appunto, si coccola come il direttore Leopoldo Toresin, il gruppo, la famiglia, i propri giocatori, quando un ex giocatore ti segna contro, cosa prova? Io intanto guardo e apprezzo quello che ha fatto, hanno fatto un gol meraviglioso, lui è strada, hanno fatto una cosa da cineteca e quindi è bello e mi congratulo con lui, dopodiché se il gol non serve come non è servito va bene Benvenga, ma arrivano i complimenti a fine partita? Sì, certamente Ah ecco, cartigliano sesto in classifica, 24 punti in attesa della partita che si giocherà mercoledì e che chiuderà questo 2022, dicevamo sesto in classifica, addirittura nelle ultime sei giornate imbattuto, se guardassimo solo questo scorcio di stagione, quindi le ultime sei giornate, il cartigliano sarebbe fra il quarto e il quinto posto, quindi una stagione straordinaria, seconda solo a quella che qualche anno fa, tre anni fa più o meno, aveva visto il cartigliano chiudere quasi al primo posto il girone d'andata e lottare per il vertice per tre quarti del campionato. Soddisfatto di questo percorso finora? Direi più che soddisfatto, comunque noi sappiamo che questo è un campionato molto particolare, dei 5 che stiamo facendo in Serie D e quello non so se è più facile o più difficile, perché i punti tra le prime e le ultime sono pochi e bisogna sempre combattere, ogni partita è una storia a sé, non c'è una squadra con cui si può andare in campo e può dire che è più facile questa partita, non si può dire che con le corazzate abbiamo già perso, no, assolutamente, bisogna giocarle tutte, noi siamo consapevoli che dobbiamo lottare ogni domenica con la prima e con l'ultima e siamo consapevoli anche della nostra forza, perché è importante capire quanto valiamo noi e questo lo dico sempre ai ragazzi, rispetto di tutti ma povero di nessuno, questa è la nostra forza. E questa è una valutazione giustissima, perché insomma anche contro le Big, diciamo, oltre al già citato pareggio 4-4 con la Driese, ma insomma il Cartigliano ha battuto il Legnago, ha pareggiato con la Luparense, se l'è giocata con la Clodiense, insomma voglio dire, forse solo col campo d'Arsico quest'anno il Cartigliano ha steccato un po' come prestazione. Era la prima partita, non avevamo la squadra, c'erano diverse defezioni e quindi abbiamo pagato anche questo, senza nulla a togliere il campo d'Arsico che è una bella squadra. Certamente abbiamo vinto il Charlize, non avevamo mai vinto, abbiamo pareggiato con la Luparense, vinto con l'Egnau che secondo me è una corazzata che alla fine penso arriverà in fondo. questo dimostra appunto la nostra forza, ma soprattutto la partita di Adria ha dimostrato che contro una squadra fortissima ho avuto dei guerrieri, dei giocatori di calcio che hanno detto me la gioco fino in fondo, questa è la forza del Cartigliano, perché da 3-0 in casa dell'Adriese, che secondo me è una delle quattro squadre più forti, ribaltare la partita e andare sul 4-3 vuol dire che c'è qualità, c'è volontà, c'è spirito di gruppo e c'è anche proprio una mentalità cartigliano secondo me. Ecco direttore, proviamo ad entrare un attimo nello spogliatoio del Cartigliano, perché insomma sono aneddoti che poi ai tifosi, agli appassionati di calcio fa sempre piacere insomma conoscere. Torniamo proprio a quella partita, finita il match 4-4 si rientra nello spogliatoio, il ministero, il direttore sportivo, che cosa avete detto ai giocatori? Abbiamo detto bravi, che è una parola che vuol dire tutto, però alla fine abbiamo detto siete veramente degli uomini, questo per noi è importante, dico sempre, dentro lo spogliatoio da noi c'è una stima reciproca tra giocatori, tra giovani, vecchi, c'è una forza comune, c'è un rispetto da quello che ha 16 anni, 17, a quello che ne ha 30 e questo secondo me è lo spirito famiglia Cartigliano, lo ripeto sempre, non si devono mai andare fuori da certe regole, perché se no casca il mito cartigliano. Assolutamente, questa è una cosa condivisa che ci raccontano non solo i giocatori, ma anche gli ex giocatori, perché anche chi va via da Cartigliano conserva comunque un ricordo di questo mondo protetto, di questa famiglia unita ed è una cosa che al di là del campanilismo e quant'altro va sicuramente sottolineata. L'ultima volta che abbiamo avuto ospite qui da noi il direttore Leopoldo Toresin un paio di mesi fa, il Cartigliano stava andando bene ma aveva un cammino un po' sbilanciato, perché andava meglio in trasferta e faceva fatica a raccogliere punti in casa. In questi due mesi la bilancia ha pareggiato un pochino i conti, perché più o meno adesso il ruolino di marcia è simile, sia in casa che in trasferta, quindi avete svoltato anche per quello che riguarda le gare casalinghe. Abbiamo detto ai ragazzi che bisogna continuare così in trasferta e migliorare in casa. Esatto, è bastato dirlo. È semplice. Cartigliano che viaggia con la media di 1,6 gol a partita, quindi un gol e mezzo, se consideriamo anche i pali e quant'altro, sarebbero due gol a partita, che è una media sicuramente incoraggiante. Direttore, ha fatto già un piccolo bilancio prima citando il distacco tra le prime e la zona play-out. Cartigliano, lo ricordiamo, 24 punti, più 6 dalla zona play-out, ma si guarda sicuramente avanti e non indietro. Detto questo, che campionato è stato finora? Ripeto, è un campionato difficile perché questo ha dimostrato il Torbiscosa che era ultimo, che ha vinto tre partite, ha vinto con l'Adriese, ha vinto a Chioggia, quindi è un campionato difficile. Però noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, sulla nostra consapevolezza di essere una squadra che può giocare con tutti. Diciamo che non so se è più bello, io dico che è più bello così perché fino alla fine si lotterà per qualsiasi risultato. Le corazzate qualcuno ha fallito perché con certi investimenti si dovrebbe avere una classifica diversa, però il calcio è questo, la bellezza del calcio è questo, che non è che chi spende di più ha già un'impatizia. Non è matematico, investimenti uguali rendimenti. Anzi, tante volte è il contrario, perché io dico che i soldi vanno spesi, i giocatori sono anche degli uomini, quindi non solo sono giocatori in campo, lo spoliatoio, tutte queste cose qua fanno la differenza. Direttore, a proposito di questo, qual è stata la squadra o le squadre che finora l'hanno impressionata di più e meritano un voto positivo per questa prima parte di stagione? Diciamo che c'è un periodo in cui delle squadre sono andate bene, poi hanno più. Chioggia adesso è il momento dell'Ignago, 5 vittorie su 6 partite, quindi si è riportato in seconda posizione quando sembrava che fosse facendo un campionato disastroso. I Cerlins adesso si sta riprendendo, la Luparense è sempre un punto di domanda, l'Adriese continua a essere sempre tra i primi tre, però non è detto, il Bolzano è primo, però il Bolzano sappiamo che è un campo dove è difficile giocare, loro fanno tanti punti in casa, però quest'anno hanno fatto anche in trasferta. Non so se reggerà fino alla fine, dico che alla fine se lotteranno sempre le due o tre squadre, però la bellezza è che tutti possono inserirsi anche in qualcosa di diverso da quello che pensavano all'inizio, nel bene e nel male. E invece la squadra o le squadre che magari potrebbero dare qualcosina in più o avrebbero potuto fare qualcosina in più? Ma il Cerlins e la Luparense sono le due squadre, a Chioggia c'è un discorso diverso, c'è qualche cosa particolare di fuori dal calcio, però diciamo che Luparense e il Cerlins si pensavano facessero molto molto di più. Adesso comunque c'è, tornando a parlare di investimenti, che giustamente noi sposiamo la linea del direttore sportivo, non è un'equazione che nel calcio vale sempre, investimenti uguali a rendimento poi sul campo. Detto questo c'è adesso una finestra di mercato, quindi insomma le squadre che magari hanno fatto meno bene si rinforzeranno, quelle che stanno facendo di più di quello che pensavano, magari incoraggiate, compreranno qualche giocatore in più. Il Cartigliano si è rinforzato con l'arrivo di Enrico Trento, che è un giocatore dal curriculum importante. Sì, la partenza di Pellitzer ci ha fatto fare questa scelta, lui abita a 5 km da Cartigliano, ha deciso di non andare più in giro, di rimanere a casa, di trovarsi un lavoro e di fare la Serie di in questa squadra. Dal primo impatto lui si è sentito a casa sua e questo per noi è stato fondamentale e sarà un tassello importante per noi, assolutamente. Mercato del Cartigliano in entrata? Il mercato del Cartigliano si chiude, non è mai chiuso un mercato, però per noi siamo a posto così per il momento, se non succedono infortuni o cose gravi. Poi c'è il mercato di gennaio che lo faranno le squadre importanti con i giocatori della Lega Pro, che il mercato di gennaio si apre per la Lega Pro, tipo squadre di vertice. Assolutamente. Allora, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata con Leopoldo Toresin, direttore sportivo del Cartigliano, Cartigliano che dunque chiude questo girone d'andata promosso a pieni voti. Insomma, adesso bisognerà comunque sempre tenere alta la sticella, la concentrazione perché il girone di ritorno, si dice sempre, è un altro campionato. Assolutamente sì, anzi, tante volte si pensa di essere arrivati al momento in cui dopo succedono i disastri. Noi siamo consapevoli che dobbiamo lottare, però speriamo di trovarci qua e alla fine festeggiare l'ennesima salvezza che possiamo fare. Allora, l'augurio è questo. Noi ringraziamo il direttore sportivo per essere stato in nostra compagnia anche questa sera. Grazie alla regia di Alessandro Costa Curta e a tutti voi che ogni sera sempre numerosi ci seguite e a noi fa piacere insomma tenervi compagnia per questo quarto d'ora dedicato al mondo dello sport dilettantistico di casa nostra. Grazie a domani.